Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su un nuovo gioco, The Relict Void è il suo nome. Il gioco uscirà il 18 di marzo su Steam, al momento della registrazione siamo ad inizio mese quindi non so ancora direvi esattamente il prezzo. È un survival gestionale dove controlleremo una nave nello spazio che dovrà saccheggiare altri relitti per poter sopravvivere e dovrà fare i conti con una popolazione, delle risorse comunque da mantenere per sopravvivere. Quindi lo iniziamo a provare all'inizio dove ci viene spiegato tutto dai movimenti al fatto che possiamo mettere in pausa. Una particolarità del gioco è che quando un evento ci viene detto che per farlo ci saranno richieste 5 ore saranno 5 ore reali e saremo noi a decidere di andare avanti e saltare fino all'evento completato o almeno da quanto ho capito. Abbiamo in alto a sinistra la possibilità di vedere quante risorse possediamo, quante ne produciamo, quante ne consumiamo. Abbiamo poi appunto la possibilità di incrociare altre cose. Vabbè qua il tutorial ci dice che quando siamo in grave mancanza di risorse avremo questa cornice rossa intorno allo schermo. Questa è la differenza diciamo tra gli edifici che potremmo trovare e che potremmo equipaggiare sulla nostra nave, sul nostro modulo di sopravvivenza. Ce ne sono di diversi tipi. Ci sono appunto le fattorie, le fabbriche scusate, gli storage building e le amenity building. Le factories, quindi le fabbriche, provvedono alla produzione delle risorse necessarie della sopravvivenza come l'ossigeno, l'acqua e il cibo. Gli storage non producono risorse ma possono dare dei bonus a quelle per il supporto vitale se sono messe al suo fianco. Le amenity building invece sono servizi necessari, non necessari per la sopravvivenza ma aumentano il morale della popolazione. È tutto piuttosto schematizzato. Si troveranno alcune diciamo parti con alcune diciamo strutture con parti mancanti, non funzioneranno fino a quando non li mancheranno, non verranno diciamo sostituite quelle parti mancanti che possono essere tolte da altre parti. Questi sono i tasti che ci guideranno qua sotto nel corso dell'avventura, la possibilità di esplorare un edificio, di fare salvage, quindi questo non l'ho ancora capita benissimo, la proveremo. Mentre non possiamo costruire nuovi edifici dal nulla, possiamo recuperarne parti e trasferirli su un edificio identico e questo è una cosa che comunque è un gioco che è di sopravvivenza ma anche molto molto di strategia e ce ne accorgeremo. Qua vabbè ci sono le varie destinazioni, possiamo scegliere quanto viaggiare ma adesso abbiamo finito il tutorial e partiamo. Noi abbiamo attualmente come potete vedere delle risorse sono tante, si va la popolazione che attualmente è di 50 persone quindi qua potete vedere che abbiamo uno o due tarie complesse e residenziali da 25 unità l'una quindi significa che sono due praticamente piene. Abbiamo acqua, abbiamo cibo e diciamo che il cibo l'abbiamo per 50 ore, l'acqua per 42, l'ossigeno per 3 giorni, il carbonio, l'organic e l'idrogeno è stagnante quindi sta lì, non viene consumato e le acque di scarico vabbè sono in aumento, 10 all'ora e la CO2 in aumento, fine. Questo è quello che abbiamo, basta anche solo che una di queste risorse quindi cibo, acqua e ossigeno finiscano che non è che poi si va in agonia, no, la partita è finita. La partita è guidata tra l'altro da degli eventi che poi in cui noi dovremo prendere delle decisioni questa è la nave che spinge e questo è il modulo. Il modulo adesso non possiamo sganciarlo ma quando ne troveremo altri potremo andare ad agganciarli qui, qui o qui, esplorarli e poi decidere se portarli o meno con noi. Qua in basso è tutto molto semplificato il gioco esce il 18, non so se uscirà in early access, al momento mi pare di no perché non c'è nessuna finestrella che uscirà in early access, quindi lo proviamo brevemente. Una cosa, ogni lavoro che andremo a fare impiegherà un'unità di crew, cioè noi abbiamo 50 persone ma due sono le unità di crew di diciamo equipaggio che può agire per esplorare, per costruire, per demolire. Ora possiamo fare un viaggio il viaggio possiamo andare in uno di queste location in cui uno hanno trovato sicuramente cibo qua parti idrofoniche, io vado nel cibo perché il cibo è quello che al momento insieme all'acqua è quella che ci manca un po' di più. E quindi vediamo, andiamo qua. Ci serviranno 10 ore a questo punto noi possiamo scegliere, qua devo ancora capire bene l'efficienza del motore cioè scegliere in base anche alla massa diciamo della nave e scegliere che tipo di carburante usare. Vabbè, noi possiamo usare qualsiasi di questo. In questo caso vedete che usando le acque di scarico non cambia nulla ma usando la CO2 abbiamo una certa efficienza. Vedete che consumando tutta la CO2 che abbiamo non riusciamo a ottenere abbastanza carburante. Possiamo farlo con l'idrogeno, l'idrogeno ne brucia un bel po' e possiamo farlo anche col carbonio che però è molto più dispendioso però vedete l'ossigeno, l'ossigeno è un gran prezzo da pagare però perché ci consente di viaggiare però cavoli consegniamo parecchi... vabbè abbiamo tre giorni possiamo provarci, viaggiamo con l'ossigeno in questo caso possiamo, vedete, abbiamo superato la soglia, qua facciamo adjust ci buttiamo anche un po' di CO2, aggiustiamo in modo da diminuire ok. E a questo punto possiamo viaggiare. Il viaggio avverrà in dieci ore, ovviamente noi non aspettiamo dieci ore ma arriviamo direttamente alla fine del viaggio. Il container rapidamente... vabbè, ci approcciamo insomma dobbiamo fare una piccola accelerata per intercettarla. Perché farla? Oppure sì? Bruciamo 20 di idrogeno. Abbiamo recuperato 60 di cibo, il cibo abbiamo quattro giorni, ci resta un problema, il problema dell'acqua l'acqua l'abbiamo soltanto per 32 ore, quindi a questo punto non abbiamo trovato nulla, quindi diciamo che possiamo viaggiare dove c'è dell'acqua, ma dell'acqua io non lo so, quindi andiamo qui. Travel to destination, bruciamo magari un po' di idrogeno, no? Confirm and travel, no, un pelino di più, ok ce l'ho aggiusta, e andiamoci. 9 ore di viaggio e arriviamo lì. Siamo arrivati al drifting hall, ok, possiamo decidere dove ancorarlo, sì sì sì, ok sì, qua adesso ve lo spiego io. Lo ancoriamo, non so, qui. La massa è aumentata da 250 che era a 299. A questo punto ora inizia, diciamo, una corsa contro il tempo perché o ripartiamo o esploriamo gli edifici. Gli edifici richiedono tempo e uno decryu per essere esplorati, quindi io adesso decido di esplorare questo edificio grande, esploro 6 ore. Posso farne anche un altro volendo, posso fare anche questo, così impieghiamo tutti e due le decryu. Abbiamo 6 e 4 ore, andiamo, esploriamo. Vedete che intanto le ore dell'acqua iniziano a scendere. Ora, va bene. Abbiamo trovato questa parte qui, che è un complesso residenziale, che comunque non possiamo farci nulla, lo spegniamo. Abbiamo queste altre cose che alla fine servono per... Allora, queste qui praticamente explore to remove, explore to remove, explore to remove, no, gas storage. Non lo so, dovremmo trovare un liquid storage per poter trovare magari dell'acqua, però al momento possiamo decidere di ripartire oppure possiamo smontare questa parte e rimontarla qui e poi magari pensare di usarla un'altra volta, ma per spostarla ci vengono richieste diverse ore, 5 ore. Facciamolo. Magari nel frattempo qualcuno va a esplorare anche questo, 4 ore, così ottimizziamo un pochino i tempi. Via! Allora, il team ha riportato che c'è una pressione positiva. Abbiamo trovato 160 di ossigeno, molto bene. Il problema dell'acqua però rimane... Dovrei mollare questa parte. A questo punto io non voglio aumentare la massa, quindi andiamo. Voglio vedere se mi ha trasferito il gas di là, oppure dovrei tenermi tutto questo attaccato. Allora, nell'ossigeno abbiamo 3 giorni. Io adesso ho deciso di sganciare questa parte. Niente, va bene. E intanto qua continuano a riposizionare... Ok, questa parte qua. Va bene. Attualmente siamo un po' in emergenza, abbiamo soltanto 13 ore d'acqua, quindi io spero di trovare qualche destinazione in grado di fornierci dell'acqua. Survivors detected, detective, detective. Questa è una logistic cache. Oxygen detected. Qua ci sono dei sopravvissuti. No, andiamo qua. Rischiamo il tutto per tutto. Abbiamo 13 ore e vediamo di andarci solo con idrogeno. Andiamo. 7 ore, ce ne restano veramente poche. Siamo arrivati. Attacchiamo qua. E speriamo di trovarci qualcosa. In questo momento dobbiamo esplorare il warehouse, sperando di trovarci qualcosa di utile. In 4 ore non possiamo fare nient'altro perché il resto non sappiamo nulla. Abbiamo solo 2 ore d'acqua, la nostra partita è finita. Abbiamo trovato del carbonium e in realtà... Questo è un liquid storage, possiamo esplorarlo ma purtroppo la partita finisce così. E abbiamo fatto un primo viaggio in quello che è The Elite Void. Ora, riproviamoci cercando di andare più avanti. Andiamo su questo oggetto che sta ruotando nello spazio. Risorse sconosciute. Andiamo di idrogeno. In questo caso viaggiamo in idrogeno. Arriviamo sul posto. Io non so dirvi quanto sia profondo il cibo abbiamo trovato adesso. Ci manca sempre comunque acqua. Quindi dobbiamo andare a cercare acqua. Carbon Detective. Detected, non detective. E andiamo qua. Asteroid with Active Bacon. Andiamo qua e vediamo che succede. Allora, una cosa molto che mi lascia molto in dubbio è il fatto appunto della varietà del gioco. Nel senso che non so quanto possa intrattenere ma confido che ci siano una miriade di eventi e di cose che possono succedere. Poi fosse in early access mi conforterebbe un po' magari pensando che potrebbero aggiungere anche dei nemici, qualche tipo di combattimento interattivo però. Allora, sull'approccio allo steroide è notato un vecchio, un'impronta di danno nella superficie. Sembra che uno shuttle ha tentato un attraggio d'emergenza e si è schiantato vicino al dock. Non ci sono segni di vita. Mentre non possiamo determinare con esattezza cosa è successo, sospettiamo che lo shuttle fosse danneggiato. Ok. Possiamo speculare. Ok, due ore, due ore per fare questa analisi. Ok. Va bene. Dobbiamo... La carriera è disabilitata per 18 ore perché stiamo recuperando qualcuno dall'infortunio. Non lo so. Non c'è altro. Quindi vediamo. Abbiamo perso praticamente anche questa partita. Però non so cosa sia successo ma è praticamente andata persa pure quella. È finita. È finita perché qualsiasi cosa io metta adesso siamo morti. Quindi ricominciamo ancora una volta. Va molto a trial and error. Scusate. Perché mi ci sono voluto anche a me un po' di partite prima di capire esattamente come comportarmi. Comunque io voglio l'acqua. Senso on contact. Andiamo lì. Andiamoci sempre con l'idrogeno. E andiamo. Allora. Vediamo un cargo, un container cargo. Sfortunatamente si sta ruotando pericolosamente in modo veloce. Sarà una sfida metterlo sotto controllo. Lo facciamo velocemente. No time to caution. No vabbè. Facciamo tre ore e lo mettiamo in sicurezza. E vediamo che cosa ci troviamo all'interno. Quindi mando avanti veloce il tempo. Abbiamo 600 di oxygen. E l'oxygen ne abbiamo. A questo punto dobbiamo andare a trovare acqua. Quindi si va avanti. Non c'è una vera e propria mappa. Quindi. Ehm. Qui ci sono parti per il trattamento dell'acqua. Io vado lì. Che magari. Abbiamo tantissimo ossigeno. Quindi magari lo possiamo usare. Perché l'ossigeno veramente dà una spinta pazzesca. Al viaggio. Attacca. Attacca. Attacchiamo lì. Abbiamo solo le 24 ore. Quindi abbiamo un fluid liquid storage. Quindi lo analizziamo immediatamente. 4 ore. 160 di wastewater. E ora anche il cibo sta diventando un po' un problema. Ora possiamo andare ad analizzare. Varie zone. In modo da poter esplorare. Abbiamo residential complex. O un warehouse. Analizziamo anche il warehouse. E poi. Explore to remove. Vabbè vediamo se troviamo qualcosa anche lì dai. Tanto è persa anche sta partita. 48 organics. Eh sì. Vabbè senti. Sgancia tutto. E che se ne frega. Una volta che lo sganciate. Viene scaraventato via nello spazio. E quindi. Abbiamo bisogno di cibo e acqua. Più cibo. Più acqua. Ma in realtà. 8 ore di uno. Più dell'altro. Quindi. Non siamo messi proprio benissimo. Water detective. Andiamo lì. Detected. Eh. Oxygen ne abbiamo a morire. Quindi ci andiamo. Tantissimo. Con quello. 6 ore di viaggio. Dovremmo avere un po' di immagine. Ok. Eh. Sembra che. Ehm. Le acque di scarico. Non so come si faccia. Sicuramente. In qualche modo si potrà. Eh. Mannaggia. Due ore. Due ore per. Ehm. Bruciare il sistema di sicurezza. Perfetto. Perfetto. Abbiamo recuperato 60 di cibo. E abbiamo 60 ore. Vedete che intanto. Una volta che poi avremo le nostre. I nostri. Diciamo. Edifici. Potremmo iniziare. La produzione. Al momento. Produciamo solo CO2. È l'unica risorsa che produciamo. Abbastanza tranquillamente. Qui. Eh. C'è una radio transmission. Che ci può portare. A 9 ore di viaggio. A equipaggiamento per la sopravvivenza. Quindi. Ci andiamo. Vediamo con la CO2. Se bruciamo la CO2. Riusciamo. Ci produciamo il carburante da soli. Ci andiamo. Recentemente alcuni membri dell'equipaggio. Hanno condiviso con. Le trasmissioni che abbiamo raccolto dalle altre navi. A volte il contenuto di questi messaggi sta. Ehm. Diciamo disturbante e scioccante. È possibile che questi messaggi potrebbero generare panico o traumi. Ehm. In altre mani tutte le. Cattive notizie. Insomma. Potrebbero minare il morale. No. Gli dico di abbassare un po' il morale. Ma di non diffondere le notizie. Allora abbiamo. Emerging supplier. Eh. Le comuni. Allora. C'è un comunicatore automatico. Abbiamo bisogno di andare fisicamente a investigare. C'è un report che dice. Un grande bottone verde che dice richiedi rifornimenti. E una porta che dice solo personale autorizzato. Possiamo premere il pulsante salutare e prendere tutto. Hackerare la porta. Io hackerò la porta. Ho preso 32 di cibo. Ah. Abbiamo hackerato la porta e siamo passati come personale autorizzato. Ehm. Ok. Quindi a questo punto siamo messi abbastanza bene. Relativamente. Perché l'acqua comunque 51 ore non sono tante. Dovremmo arrivare almeno qualche giorno. Però abbiamo trovato un asteroide ghiacciato. Quindi ci andiamo immediatamente. Vediamo se con le waste water riusciamo ad andarci. Sì. Fantastico. Vai. Questa partita sembra iniziata un pochino più facilmente. Ehm. Sì. Dobbiamo spendere due ore per mandarla a minare. Ehm. Ok. Ci siamo infortunati. Quindi dobbiamo aspettare otto ore. In comprensa abbiamo tre giorni d'acqua adesso. Quindi dobbiamo aspettare otto ore. Attenzione. Un gruppo di volontari ha preso la nostra attenzione. Sto chiedendo di provare ad allenarsi per attività di equipaggio. Se le loro famiglie possono avere razioni extra. Cioè vogliono praticamente allenarsi ma per avere razioni extra. Ehm. No. Non posso permettermi di perdere water. Ehm. No. Non me lo posso permettere. Mi dispiace. Ehm. Mi dispiace. Abbiamo poca acqua. E adesso iniziano a contarsi in che ore. Quindi abbiamo bisogno. Ma in realtà io volevo andare qui per farvi vedere. Questo è un luogo importante. Quindi ci andiamo. Perché volevo farvi vedere un pochino come funzionava il discorso degli edifici. Quindi. Ok. Docchiamo qua. Perché praticamente voi potete esplorare è vero l'edificio. Ma quando trovate qualcosa che è danneggiato dovete prima di tutto o ve lo portate in giro. Duecento di carbonio. Anche qua c'è qualcosa da esplorare. Quindi esploriamo anche quello ed esploriamo anche questo. Che magari prendiamo un po' di spazio. C'è qualcosa qui. Ehm. Esplora. Abbiamo trovato carbonio e cibo. Ok. E poi esploriamo anche questo. Che è un gas storage. Magari ci troviamo qualcosa di ossigeno all'interno. C'è una trasmissione governativa con un sistema di codifica. Va bene. Abbiamo ricevuto un report su una fabbrica di elettrolisi. La fattoria è stata modificata in modo abbastanza intenso. Alcuni vascelli di pressione sono stati attaccati a... Vascelli? Beh. Vabbè insomma ha modificato qualcosa. Non si sa bene che cosa però in pratica abbiamo l'elettrolisis che è un nuovo edificio questo. Che è interessante perché non l'avevamo. Quindi magari lo possiamo far spostare qua. Con l'aerea lo ruotiamo. Lo mettiamo un po' modello Tetris. Magari lo mettiamo in un angolino. Perché vedete che poi ogni cosa dà un bonus. In questo caso l'elettrolisis ha bisogno di oxigen e organics. Quindi avrebbe bisogno di un magazzino vicino e un tank di liquido. Oxigen sarà gas o liquido gas. Proviamo a piazzarlo qua. Quindi sposta. Lo ruoti. Lo piazzi lì. Perfetto. Questo invece è un warehouse. E glielo piazziamo. E non lo possiamo spostare questo. Mannaggia. Vabbè. E intanto gli faccio fare un po' di operazioni. Tipo questo. Va bene. Esplora anche quello. Così abbiamo esplorato tutto e siamo a posto. Ok. C'è un nuovo incontro improvviso. Un ingegnere. Ma non ho ben capito cosa viene coordinato. Comunque. Qua abbiamo fatto tutto. Aspettiamo ancora un'oretta che finiscano di montare questa. Vedete che ha una parte. Due parti mancanti. Quindi se trovassimo in giro un altro edificio del genere. Potremmo distruggirlo. Recuperare un edificio alla volta. Le due parti mancanti. In modo da poterlo usare. E produrre acqua. Idrogeno e CO2. Usando ossigeno e organics. Quindi vedete che in questo caso. Ha un bonus per avere vicino un gas storage. Dovremmo trovare un magazzino distrutto. Per poterlo. Vabbè insomma adesso. Questo non c'è più utile. Quindi lo sganciamo. Arrivederci. E ora andiamo. Stranded Junction. Ok andiamo sempre lì. Usiamo un po' di CO2. Posso usare anche un po' di questo. Ok. Così me li fa scendere a turno. Va bene. Siamo arrivati. Vediamo. Magari siamo fortunati. Troviamo qualcosa per l'elettrolisi. Allora vediamo un po'. Esplora questo. Ed esplora anche questo. Vediamo se ci troviamo qualcosa di interessante. No. Lo sta ancora esplorando. Non c'è nient'altro. Dobbiamo aspettare per forza. Allora. Un gruppo di volontari. Ah no. Ok. No. Non posso permettermelo. Mi spiace. Qua c'è qualcosa da esplorare ancora. E anche qua dietro. Esplora. Esplora. Esplorate tutto che magari ci troviamo dentro della roba utile. Anche qua. Dai. Esplora tutto. Duecento di carbonio. Ok. E poi esplora anche questo. E poi questo. E poi anche questo. Allora. Come potete vedere. Questo edificio. Abbiamo trovato qualcosa. No. Eh. Questo è un CO2 scrubber. Eh. A cui manca però una parte sola. Però io voglio spostarla. Eh. CO2 scrubber. È influenzata dal gas storage. Il gas storage. È di là però. Eh. Eh. Warehouse. Vabbè. La sposto. Lo metto qua. Ok. Dai. Fatemelo in cinque ore. Ok. Basta. Basta. Non si può smeltare altro. Quindi. Direi che. Arrivederci. Adesso abbiamo bisogno di water. Quindi speriamo di trovare una destinazione con. Qua c'è un neutral beam injector detective. Non mi. Detected. Detective. No ma mi sembra di dire detective. Ma in realtà lo dico giusto. Allora. Eh. Risorse sconosciute a sette ore. Dai. Ci proviamo. Usiamo. Waste water. E vai. No. Qua ancora. Continua a ripetersi. Continua a farsi avanti. Il morale sta anche scendendo. Secure dead container. 300 di carbonio. No. Direi che siamo praticamente morti. Siamo morti. Possiamo andare. Water. Speriamo di trovare un asteroide con. Con qualcosa di. Di acqua. Dubito. Quindi. Siamo praticamente morti. Abbiamo. Sembra potenzialmente dannoso. Allora. Se lo facciamo. Passano due ore. E moriamo. Qualsiasi sia l'operazione. Quindi. Niente. La partita è finita. Amministrato male. Vedete. Adesso ci rimettiamo in viaggio. Qualsiasi cosa io vado a fare. Si muore. Allora. L'idea è molto interessante. Mi sembra anche piuttosto vario. Calcolando che ci sono tutte le varie cose da. Da scoprire a livello di edifici. Da montare poi sulla nave. Da poter far funzionare. Mettere insieme la nostra stazione. Diciamo che crea. Le varie risorse per la sopravvivenza. Non è un gioco facile. Ho solo un grande punto di domanda. Primo. Quale sarà il prezzo. E secondo quanto sarà la varietà delle cose. Le casistiche che possono accadere. Però. Allora. È un bivio questo gioco. Può essere un giocone. Se hanno dei progetti concreti. O effettivamente. Sotto ci sono delle grandissime variabili. A livello di edifici. A livello di eventi casuali. Oppure può essere un gioco. Che diverte le prime ore. Nel caso in cui. Forse il primo. Quindi. Forse il primo. Si. Direi che. Un 14 euro. Può valerli. Se costerà così. Nel caso del secondo. Non lo so. Perché. Onestamente. Più di 10 euro. Non li darei. Però. Io spero. E credo. Che gli sviluppatori. Gli staranno dietro. E aggiungeranno diverse cose. Sono solo supposizioni. Ragazzi. Ma so che. Tante volte vedete. I giochi di tema. Stufa dopo un po'. Non stufa. Beh. Tutti i giochi stufano dopo un po'. Però bisogna. Vedere. Quanto costa all'inizio. E quanto ad offrire. Ma io rimango comunque ottimista. Perché secondo me. Gli sviluppatori. Hanno già. Inserbo altre cose. Siamo alla 0.9. Quindi. Mi fa pensare. Che non ci sarà un early access. Ma ci saranno. Un'aggiunta. Poi futura. Di eventuali. Nuove casistiche. Ovviamente. È un gioco. Che non è difficilissimo. Non è. Un'amministrazione. Un po' alla. Non lo so. Alla Inward. Ad esempio. Alla Oxygen Not Included. E così via. Però. Insomma. Vedremo. Vedremo un attimo. Staremo a vedere. Intanto il gioco. Io vi dico. È promettente. Quello senza dubbio. Infatti. Non mi è dispiaciuto. L'ho imparato subito. E. E. Mi è divertito. Mi chiedo solo. A lungo termine. Se ci sia uno scopo finale. Ma presumo di sì. Perché ci sono tantissimo. Continuato a vedere. Anche in questo video. Anche nella partita precedente. Continuamente. Degli oggetti nuovi. Degli eventi nuovi. E soprattutto. Dei. Dei. I macchinari nuovi. Quindi insomma. Grande punto di domanda. Per un gioco interessante. Ve la metto lì. Un po' come. Pulce nell'orecchio. Come tarlo. Da valutare. Come sempre. Grazie a tutti. E ci vediamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao.